Ho paura? Non temere, questa è la prima volta che il tuo nome è nella lotteria. È ora della mietitura. Petunia Evershot. Niente giochi per me, che botta de culo. E vai! Se vi siete gustati gli Hunger Games... Peschiamo il ragazzo che si unirà a te nei giochi. Ora preparatevi a giucciarvi questi. Otto Cooler. Non c'è nessun Cooler Otto. Dai creatori di 300 e mordimi. Non temere, con questa niente di brutto ti accadrà. Sì, tu! Benvenuti alla 75esima edizione dei giochi. C'è una persona speciale nella tua vita? Sì, una persona c'è. È Marco! 3, 2, 1... No! Daie! È ancora meglio in 3D. Puoi strizzarmi il culo un po' meno forte? Non ti sto strizzando il culo. Tranquilla. È solo il bastone di un vecchio mago. Sparite! Fuoco! Aspettate, non scendete da... Angry Games. La ragazza con l'uncello di fuoco.